L'ospite che è con me in studio è la professoressa Maria Luisa Crosina, storica, autrice di numerosi libri. Buonasera e benvenuta. È venuta a lanciare un appello perché conosce una realtà di persone che hanno delle gravi difficoltà di salute. Ci spiega brevemente di cosa si tratta? Si tratta di un'associazione che è sorta nel 1987 in Israele che ha riunito dei genitori di ragazzi cerebrolesi. Io conosco oggi un membro del direttivo e presidente di questa associazione che si chiama dottor Alessandro Viterbo il quale ha avuto un figlio cerebroleso. È un'associazione che secondo me si contraddistingue per delle peculiarità. Innanzitutto è formata da genitori di ragazzi non soltanto ebrei, però di tutte le etnie che sono presenti in Israele. Quindi non c'è nessuna preclusione né di etnia né di religione, nulla. Questi genitori all'inizio si sono documentati chiaramente per un processo riabilitativo, per quello che era possibile per i figli, e sono entrati in contatto con una realtà che operava in Ungheria dove c'era un metodo innovativo rispetto agli altri modi di curare, o meglio di lenire queste sofferenze, queste limitazioni. E quindi dieci studenti in quell'epoca si sono recati in Ungheria per acquisire questi metodi. Questo metodo si basa sulla centralità del ragazzo, dal punto di vista psicologico anche, e quindi si avvale di un metodo personalizzato per ogni ragazzo. E questo ha dato degli ottimi risultati. Sono stati creati diversi centri in Israele, in varie località di Israele, con diverse specializzazioni, anche per le diverse fasce d'età, in quanto si va dagli asili nido, fino poi anche alla prosecuzione per gli adulti. Si sono avuti ottimi risultati anche perché il metodo si basa sul trovare delle vie alternative per superare le proprie difficoltà. E quindi con questo percorso molti ragazzi si sono trovati a poter frequentare l'università, addirittura prestare il loro servizio nell'esercito, acquisire anche delle specializzazioni, delle particolari abilità che li metta in grado di poter lavorare, di poter badare a se stessi. E questo viene anche favorito da degli appartamenti di apprendimento, dove il ragazzo man mano impara ad autogestirsi, a vivere al di fuori della famiglia in certi momenti, e appartamenti protetti che li mettono in grado di fare una vita pressoché normale. Qual è l'appello che è venuta a lanciare questa sera? Qual è l'aiuto che possiamo dare noi trentini? L'appello, uno per me è molto importante, è anche di sensibilizzare la nostra classe medica, in quanto questo centro è in connessione con altri centri del mondo di questo tipo. Anni fa c'è stato un convegno dove hanno partecipato medici, neurologi infantili, provenienti dall'America, dall'India, dall'Ungheria. Quindi si può estendere questo metodo in altri stati. Quindi una collaborazione proprio medica. E poi l'appello è di poter aiutare questi centri, in quanto le sovvenzioni da parte dello Stato sono abbastanza carenti, anche per la situazione che c'è in Israele adesso, soprattutto per le apparecchiature scolastiche. Noi in Italia abbiamo un'associazione, amici di Saat Kadima, che vuol dire un passo avanti, a Torino. Poi c'è la fondazione Marchese Levi di Torino, che ha sovvenzionato parecchi progetti. E quindi l'appello è che chi volesse anche aiutare concretamente con offerte di denaro oppure con iniziative e questi centri, lo faccia. Io mi prevento di dare il suo contatto. Magari la possono contattare su Facebook. Maria Luisa Crosina e quindi possono avere informazioni dirette. Sì, senza altro posso anche metterli a contatto con il dottor Viterbo. Grazie professoressa per essere stata nostra ospite. L'appuntamento con Trentino Più è per domani alla stessa ora. Arrivederci.